Salve amici fratelli della congrega, come state? E' sabato sera, come canta Giovanotti, e lunedì ci saranno le nomination all'Oscar. Salgono, sono salite le quotazioni di Taro Egerton di Rocketman dopo la vittoria di Golden Globe, però chiariamoci, i ballottaggi erano, o sono stati chiusi, diciamo, subito dopo i Golden Globe, anzi, forse prima, chissà. Quindi, la vittoria di Taro Egerton, da parte di Elton John e Rocketman, non significa nulla. A proposito, Rocketman è di Dexter Fletcher, regista che sostituì Bryan Singer per ultimare le riprese di Bohemian Rhapsody. Ok? Ecco, lievitano anche le quotazioni di Leonardo DiCaprio. Oramai, i tre nomi sicuri saranno Joaquin Phoenix per Joker. Vi ricordate, nel trailer, Joker prende l'ascensore, poi scende le scale. Ecco, è meglio, è meglio, meglio scendere le scale, perché... No, diceva, allora, Joaquin Phoenix per Joker, Adam and Driver per Marriage Story, storia dei matrimoni, lo radicato per C'era una volta a Hollywood, C'era una volta a Hollywood, l'omicidio e lo stupro di Sean Tate, per mano di quei farabutti, quei mostri incaricati da uno più mostro di loro, che però non si mostrò, perché, sì, Charles Manson non uccise mai nessuno. Lui commissionava gli omicidi, era come Joe Pesci, Russell Buffalino di The Irishman. Uccidimi Gio Gallo e Robert De Niro, sarà candidato a Robert De Niro per The Irishman come miglior attore, sarà trascurato, dopo essere stato escluso ai Golden Globe Agli Screen Actors Guild Awards, fra l'altro Leonardo DiCaprio premierà la carriera Robert De Niro agli screen, mamma mia. Chi può fare pronostici certi? Antonio Banderas, Dolori Gloria, sì, sì, sì. Eh, sì, non si può mai stare tranquillo in questa vita. Oggi è un momento di felicità, domani di alterità, di diversa emozionalità, perché ti inducono, insomma, a intristirti, a malinconirti, a inlanguidirti, a sdilinquire nel buio, nel buio, nel buio. Per risparmiare la luce, i condomini hanno cambiato l'ascensore. abbiamo due ascensori. Hanno riparato l'altro, adattandolo all'altro, cambiato, ascensore tipo ospedale. Ok, adesso facciamo un po' di chiarezza, di calma, ok? Ok, torniamo a ceru' una volta a Hollywood. Rovan Polanski, Sharon Tate, l'inclino del terzo piano, bisogna stare attenti ai condomini, perché se poi incontri i vicini di casa di Miraforov e John Cassavages di Rosemary's Baby, quelli... e se poi qualcuno, cioè il diavolo, non usa il condom, cioè il profilattico, e poi... e poi da lì non si esce, o forse si esce, hanno una porta, e si... La vita è una pura formalità, film di Tornatore con Polanski, probabilmente fu un regista non accreditato, questo film... va bene, ok. Angela Arthur, ascensore per l'inferno, secondo me Robert D. non meritava, non mi dice come miglioratore non protagonista, va bene. Nella parte di Mephistophel. di Belzebù, di Lucifero, o meglio, Louis Seaford. Eh sì. Hanno cambiato gli ascensori, nella vita si sale, si scende, o si ascende, oppure si precipita l'inferno come Harry Angel Detective del film di Alan Parker, appena citatovi, e poi in ascensore ci si può citare come Jim Morrison Val Kilmer, con Nico, 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 e si apre, qualcuno vede che, ecco, Christina Fulton, è l'ex di Nicholas Cage, sì, 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 e lì proprio l'ascensore, e lì sale proprio, sale, sale, è che vi posso dire, ecco, hanno cambiato gli ascensori, adesso abbiamo un ascensore tipo ospedale, uno chiama dal settimo piano, tu in contemporanea chiami dal quarto piano, e un altro chiama dal quinto piano, quindi va su e giù, va su e giù, ma almeno va, l'importante è che vada, ecco, fra l'altro, questi, questi vecchi rincoglioniti, come la coppia, di rintronate, rimbambiti, di Rosemary's Baby, quei vecchi malefici, ecco, quando si diventa vecchi, non si hanno più cazzi, ecco, non come quello di Jim Morrison, la bocca di Cristina, di Nico, no, cazzi per la testa, allora, si pensa solamente alle spese condominali, sì, e allora, sì, andrebbe svecchiato questo palazzo, l'unico giovane rimasto, sono io assieme a quello del terzo piano, gli altri giovani, per circostanze, per fortuna, per fortuna loro, sono andati a abitare, per conto proprio, a volte tornano, come quello del terzo piano, che si chiama come è Stefano, che fra l'altro ha una sorella, che è buona, lei è avvocatessa, di bocca buona, quella lì, sì, sì, e l'altro giorno successe una cosa non quanto inquietante, ecco, io ho scesi dalla macchina, aprì il portone, e mi trovai questo pezzo di figone, davanti a me, lei rimase impressionata, ripeto, andò tanti anni fa a abitare per conto suo, e da tanto tempo, non mi vide, io non la vidi, ma quando mai la vidi, ecco, e allora, mi guardò come per dire, prendiamo l'ascensore assieme, e io le ho risposto, no, dicevo, no, saliamo, 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 salì tutto, la saliva, salire, salendo, salivando, a proposito di Cristina, l'ex di Nicolas Cage, adesso tutta rifatta, quella se l'è fatta tutta, appunto è stata anche con Nicolas Chicoppola, quello del cuore selvaggio, e poi bisogna usare il fazzoletto, o la carta igienica, tenderli, tenderli, dietro le tende, teneramente si tende, cosa, non lo so, cosa, la coscia, ecco, e dicevo, Cristina Fulton, e lì, e lì, diciamo, ecco, e lì, Jim Morrison, è una bellezza imbarazzante, diciamo rizzante, rizzante, se uno impallidisce, ecco, impallidisce, come a proposito di c'era una volta Hollywood, ecco, di, 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 di splatter, di, di, di finali, e proprio esplosivi, sanguigni, eh, Brad Pitt, intervista col vampiro, lì, tutto emaciato, prosciugato, proprio, smunto, proprio, ecco, distanguato, distanguato, il vampiro che succhia, e anche Cristina, ma non, su chioma, non, non soltanto quello di Val Kilmer, di The Doors, Jim Morrison, eh, sì, eh, Cristina interpretò anche un B-movie, anzi, uno Z-movie, eh, sì, pur avendo un vocabolario attoriale che va da l'A alla B, la B di, appunto, bocca, ecco, eh, e torniamo a Totò, è la trombetta, dove vuole metterla, caro mio, trombone del condomino, in bocca, eh, è Cristina, che dicevo, intervista con la vampira, un film di una raffinatezza, diciamo, di una finezza, eccezionale, eh sì, però stette con Nicolas Cage, The Family Man, Family Man, il cattivo tenente, cattivo tenente, tendente alla tendenza, no, dicevo, no, comunque, no, il mio palazzo, tutte le, 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 le giovani, eh, sono ed erano belle, belle, e nelle cantine invece ci sono le zoccole, eh sì, quelle si allargano, proprio, cosa? Si allargano, proprio, le cantine, infatti, il mio vicino di casa, non so se state sentendo, udendo in sottofondo la, la sua voce, sta seguendo il campionato di Serie A adesso, e si allargò Cristina, no, la cantina, e lui disse, il vicino si chiama, vicino, si chiama, eh, Lucchi, Lucchi, lui disse, e adesso chi paga? Chi paga? Adesso chi paga? E la zocco la disse, e paghi tu? No, l'amministratore del condominio, eh, di sé, e si è allagata la sua Cristina, la sua cantina, e quindi paga lei, perché devono pagare gli altri, eh, allora, perché dovevano cambiare questo ascensore, e perché volete cambiare me? io sono fatto così, è chiaro? Se non vi sta bene, bene, non imboccatevi, non imboccatevi, voglio, voglio, diciamo, ecco, mi chiedono fra l'altro, ma, tu per chi voti? Se sei apolitico? Sì, io sono mezzo destro, mezzo sinistro, come Anderoncato, Margheritoni, eh, lasciatemi cantare, tocco 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 tocni, tocco 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 tocco, circotogne, torniamo a Joker, il pagliaccio, l'essere clowneschi, burleschi, goliardici, spiritosi, poi malinconici, euforici, pensierosi, tristi, nervosi, e appunto cremosi, cremisi, 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 ok, basta, basta adesso, ecco, scrivo libri, scrivo libri, leggo libri, a volte, quando voglio, sono, sono un personaggio affascinante, come Johnny Depp, dei figli di Polanski, la Nona Porta, la Nona Porta, lei vuole conoscere la mia anima, lei non è Lucifero, non è Bob De Niro di The Angel Art, l'ascensore per l'inferno, io forse non sono Mickey Rourke, Mickey Rourke però che recitò con Johnny Depp in Cielo Una Volta, Cielo Una Volta, Once Upon a Time in Messico, di Robert Rodriguez che girò Planet Terror, Green Grand, Green Grand, a prova di morte e torniamo a Kurt Kurt Russ, basta adesso, la mia vita è stata un grosso guai la mia vita è stata un grosso guai a Chinatown, una figa, no, una fuga da New York, escape, escape, escape from New York, dovete leggere il libro di Arturo Perez Revert, il club di Uma, di Uma, di Uma, da cui fu tratto il film di Roman Polanski, è un casino questa mia vita, un equivoco, proprio giudiziario, uscirà il nuovo film di Clint Eastwood, Richard Jue, Joe Jue, a breve, giovedì prossimo, un equivoco giudiziario, qui bisogna indagare, se ci vuole un altro premio Oscar, Jordan, Jordan, dell'ufficiale La Spia, insomma, sì, io sono un personaggio da Bertolucci, un dreamer come Luis Garell, in galera vi mando, in galera vi mando, dice la Tato, eh sì, un bel imbroglio, un inganno, un inganno, eh, Jim Morrison, The Doors, e dicevo le zoccole della cantina, sì, eh sì, e ci sono le russe, c'era anche, c'è ancora, quella bella donna, Isabella, Isabella Russinova, che era, insomma, era presente, sì, sì, in mezzo destro, mezzo sinistro, e fu la donna scomparsa, eh, del film, il commissario, la gatta, la gatta, la gatta, il commissario logatto, Dino, io, io risi, Dino risi, commissario logatto, con Lino Benvi, è chiaro? Eh, se no, saranno chezzi ameri, ma, mi diedero pure, della bel bumane, ma quella frecchia, la bel bumene, quella è un povero disgraziato, saranno volati, volati, gli uccelli, volati per diabetici, ecco, vogliamo ascoltare il grande Jim, 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 Big Jim, che non è James Cameron, è Jim Orson, e allora, ma perché dobbiamo farlo solo una volta, facciamolo due volte, sì, sì, due volte, lovely, lovely ten, 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 love me, love me two times, I've gone away, love me two times, I've gone away, love me two times, e basta, basta con questo cinema moderno, con Avengers, ecco, torniamo al cinema anni 70, torniamo agli ascensori, all'ascensore per l'inferno, no, quello degli anni 80, il film di Alan Parker, agli anni 70, torniamo agli anni 70, torniamo a Jim Morrison, insomma, dai, era meglio, meglio, forse il, il 69, il 68, i nostri, messi a 90, gli anni, eh, Tarantino, i 90's, c'era una volta Hollywood, c'era una volta Jim Morrison, sono, la vita è dura, è durissimo, ma, 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 Grazie.